Roberto Giammarino, direttore generale del Pineto, siamo pronti per ripartire per questa nuova avventura, ma tu in realtà hai già cominciato a lavorare da un bel po'. Sì, diciamo che siamo ripartiti da subito per fare nel più breve tempo possibile la squadra, penso che sia quasi completa, adesso è da vedere alcune cose, ma credo che il 90% della squadra è stata fatta. Hai varato un po' la linea verde con tanti ragazzi promossi anche dal settore giovanile, questo è importante anche per dare continuità e poi qualche nome illustre come ossatura generale. Dovevamo creare un gruppo importante di over, credo che abbiamo 6-7 giocatori importanti e per il resto abbiamo cercato di prendere tutti i giovani fuori quota, abbiamo rinverdito molto, una grande base di 99 che provengono dal nostro settore giovanile, quindi è una squadra giovane e allo stesso tempo è una squadra esperta sugli uomini importanti. L'obiettivo è quello sicuramente di provare a fare qualcosa in più rispetto al scorso campionato, questo Pineto ci può assolutamente riuscire? Sicuramente dobbiamo migliorarci, la posizione dell'anno scorso deve essere stramigliorata, però è un campionato dove cercheremo di raggiungere al più breve tempo possibile una salvezza e poi vedere. Questo è un gruppo giovane, un gruppo nuovo, abbiamo cambiato tanti giocatori, quindi è un gruppo da amalgamare, adesso starà alla bravura del mister, alla compattezza della società, creare i presupposti per fare un gruppo vincente. Questo calciomercato è chiuso qui oppure potrebbe arrivare ancora qualche giovane? Si parlava di un giovane attaccante portoghese che potrebbe arrivare, cosa c'è di vero? Sì, ma in questi giorni avremo dei giocatori in prova, stiamo completando una rosa fatta di ragazzi, quindi se sono giovani benvengano, non ci siamo fermati. Diciamo che ormai il grande della squadra è stato fatto, per il resto vediamo.